Benvenuti in un nuovo episodio di studio, il podcast che parla di innovazione, creatività e tecnologia. Ogni settimana insieme a me ci sono artisti, imprenditori e visionari che mi raccontano la loro storia e il segreto del loro successo. Io sono Andrea Venturelli e ti guiderò in questo percorso. Questa settimana ospite in studio c'è Francesco Costa, in qualche modo il papà del podcasting italiano. Francesco da giugno 2015 a dicembre 2017 ha curato un podcast e una newsletter sulla politica statunitense, finanziata spontaneamente dai lettori e dagli ascoltatori con più di 40.000 euro. Grazie a questa campagna di crowdfunding Francesco ha potuto documentare l'ascesa di Trump al potere con un tour da più di 50 tappe in Italia e viaggiando più volte negli Stati Uniti. Insieme abbiamo parlato di politica internazionale, abbiamo parlato del ruolo dell'Europa fra Stati Uniti e Cina, abbiamo parlato anche della nostra Milano, del perché Milano riesce ad essere una città attrattiva non solo in Italia ma in tutto il mondo, abbiamo parlato di chi sono i milanesi e del perché la città negli ultimi dieci anni ha avuto un boom così impressionante e infine abbiamo parlato di giornalismo e del futuro dell'editoria online. Un tratto che caratterizza la nostra epoca, ma non dico niente che non sia noto, è un grande ritorno dell'importanza dell'enfasi sugli Stati nazionali. È come se la globalizzazione che secondo me ha avuto un bilancio straordinariamente positivo o meglio, le cose positive eccedono quelle negative. Noi le guardiamo dal nostro punto di vista di Europa anche un po' in declino e capisco che facciamo fatica, ma ci sono centinaia di milioni di persone che sono uscite dalla povertà in Cina, in Africa e quindi da un punto di vista globale questo ha dato una grossa mano al pianeta. È inevitabile dire che per quanto questo momento non sia perfetto ovviamente, ma viviamo nel miglior momento della storia dell'uomo senza ombra di dubbio e anche dal punto di vista ambientale, che evidentemente è il nostro enorme problema che abbiamo tra le mani, oggi esiste una sensibilità, per quanto limitata, quello che vuoi, che vent'anni fa, trent'anni fa ci sognavamo. Benvenuto in studio. Buongiorno Francesco. Buongiorno. Grazie mille per aver accettato il mio invito a partecipare a studio. Grazie a te. Mi fa molto piacere averti qua perché in qualche modo sei il papà del podcast italiano. Che grande responsabilità. Però tu hai avuto un podcast molto famoso che da costa a costa, oggi hai un altro podcast che si chiama Milano Europa, ma in realtà fai il giornalista. Io ti chiedo una piccola presentazione di chi sei tu e di cosa ti occupi. Io faccio il giornalista, ho 35 anni, lavoro al Post dal 2010, il giornale online, il post.it, dalla fondazione, diciamo, mi sono trasferito a Milano per lavorare al Post, prima vivevo a Roma. Sono rimasto al Post, tuttora sono lì con grande felicità e gioia, sono diventato vice direttore qualche anno fa, insomma, è la mia famiglia, oltre a essere il giornale che mi piace, in cui mi piace lavorare. A un certo punto nel 2014-2015 ho sentito un po' il desiderio di fare qualcosa che fosse mio e basta. Anche per provare delle strade che probabilmente sarebbero state un po' incoscienti da tentare con un giornale, un'impresa, invece farlo da solo nel tempo libero mi dava una qualche libertà. E quindi ho cominciato questo progetto di cui parlavi da costa a costa, che all'inizio era soltanto una newsletter, è diventato abbastanza per caso anche un podcast e lo facevo in modo totalmente gratuito. Poi è diventato anche un progetto sostenuto dal punto di vista economico, dai lettori e dagli ascoltatori in modo spontaneo. Insomma, mi è esplosa in mano questa cosa, senza che fosse da parte mia. Per me era un modo per fare una cosa carina nel tempo libero, ma per me, non per gli altri. Poi gli altri esistevano in quanto lettori, eccetera, ma volevo essere io felice di quello che facevo. È diventata una cosa molto più grossa e ha cambiato un po' la traiettoria della mia carriera, tant'è che poi c'è stato un altro podcast e oggi sono qui con te. Probabilmente non mi avresti invitato se non fossero successe queste cose. Sei sempre troppo modesto però, perché io leggo qualche riga della tua biografia, perché secondo me dice molto di più. Da giugno 2015 a dicembre 2017 ho curato una newsletter e un podcast sulla politica statunitense, da costa a costa, finanziato spontaneamente da lettori e ascoltatori con più di 40.000 euro, che nel corso dei mesi mi hanno portato a parlare di politica americana in tour italiano da più di 50 tappe, a viaggiare più volte negli Stati Uniti per raccontare le elezioni di Trump. Ho collaborato con Rai 3 per la scrittura dei documentari La Casa Bianca. Nel 2016 ho vinto il premio internazionale Spotorno Nuovo Giornalismo per la mia copertura delle elezioni presidenziali statunitensi. Nel 2018 ho vinto il premio della Festa della Rete per il miglior podcast italiano. Ecco, secondo me in queste poche righe si riescono a capire varie competenze che tu hai, sia dal punto di vista giornalistico, speaker, autore, però anche a livello di crowdfunding. Quanto è stato importante avviare questo tuo progetto, questa tua newsletter inizialmente, di Costa Costa, e quanto ha influito sulla tua carriera poi invece da giornalista? Guarda, moltissimo. Ti racconto brevemente com'è andata, perché in questo c'è poi il cambio di traghettoria e il cambiamento per la mia carriera. Da Costa Costa era appunto una newsletter sulle elezioni politiche statunitensi. Io sono stato sempre molto appassionato degli Stati Uniti fin da quando ho cominciato a fare questo mestiere. Inizialmente durante la prima campagna di Obama, per capirci. Era il 2007-2008, avevo 23 anni, stavo cominciando un po' a capire che volevo fare questo mestiere. Col tempo mi ero accorto che poi lavorando al post, facendo il vice direttore, non riuscivo più a scrivere degli Stati Uniti, di occuparmi degli Stati Uniti come volevo. Cominciavo una campagna elettorale nel 2015, a giugno, e quindi quel mio desiderio di fare qualcosa di mio e più sperimentale, unito alla campagna elettorale che cominciava, mi ha fatto dire, faccia una newsletter, una cosa vecchia ma nuova, specialmente all'epoca, per raccontare una volta alla settimana tutto quello che sta succedendo nella campagna elettorale americana. Ma sai che la newsletter comunque sta tornando, nonostante siamo nel 2019, è vecchia, è un mezzo vecchio, un mezzo di web 1.0, e comunque funziona ancora tantissimo. E secondo me, guarda, funziona per motivi che sono simili anche a quelli per cui funzionano i podcast. Oggi il consumo dei contenuti sul web avviene in luoghi molto rumorosi. Se si ha una pagina web, hai il banner, il pop-up che si apre, la musica, clicchi sulla X e ti si apre un altro pop-up, no? E poi ci sono i commenti dei lettori, i link, a quanti di noi capita di cliccare su un link, poi su un altro e ti dimentichi da dove eri partito, no? Poi dopo noi entrambi parliamo di cose che non è che facciano ridere, e quindi accanto magari c'è il video del gattino che salta. Esatto, pure i social sono il luogo del rumore per eccellenza, e tu ti trovi un articolo sulla guerra in Yemen, il gattino che ride, la foto dei tuoi amici in vacanza. La newsletter è un luogo intimo, la ricevi nella tua casella di posta, dove ti scrivono i tuoi amici, i tuoi colleghi, la tua fidanzata, e basta. Non ha pubblicità, ci sono link, però non sei in un browser, sei in un contesto diverso. È un luogo abbastanza silenzioso, se vuoi scrivere vuoi dire qualcosa, rispondi e io ti leggo, e magari chiacchieremo, ma non c'è una grande arena, quella c'è da un'altra parte. Il podcast è uguale, mi ascolti nelle cuffie, stiamo parlando direttamente. E quindi tu hai iniziato questa newsletter nel 2015? Esatto, giugno 2015, utilizzando un servizio gratuito, che era Tiny Letter, che ha un tetto di iscritti, perché Tiny Letter è proprietà di MailChimp, la grande società di newsletter commerciali, eccetera. A un certo punto io tocco quel tetto, ed era novembre dello stesso anno, e capisco che per proseguire fino a novembre dell'anno dopo avrei dovuto pagare una quota mensile, che dipende dal numero di iscritti, ma facendo una piccola stima, insomma, sarebbero stati 700-800 euro da lì a un anno. E io dico, vabbè, io questa cosa la sto facendo volentieri, mi diverto, è gratis per tutti, perché non c'era un costo per iscriversi alla newsletter. Dico ai miei lettori, spiego la situazione e dico guardate, io lo faccio volentieri e ce li metto volentieri io i soldi. Detto questo, se voi volete contribuire con quello che volete, questo è il mio account di PayPal, dovete sapere soltanto che a me servono 800 euro in sei mesi e ne arrivano 6.700 in una settimana. E quindi alla newsletter successiva la chiudo subito la raccolta fondi. I miei colleghi ancora mi insultano per questa cosa. Sì, infatti questa cosa non l'ho capita nemmeno io, nel senso che una persona, la maggior parte delle persone, secondo me, l'avrebbe tenuta aperta, perché più guadagno, insomma, meglio è, no? È un progetto personale, è vero, però se ci riesco anche a tirar fuori qualche soldo in più per... Per pagare il mio lavoro anche, certo. Per pagare il tuo lavoro e quello che ho letto io è che ti hanno pagato soprattutto i viaggi in America per andare a documentare la questione. Sì, questa era la prima stagione, quindi si è conclusa con le elezioni americane del 2016. Peraltro io ho cominciato a fare questa newsletter un mese prima che si candidasse Trump, quindi poi ho avuto la fortuna di trovarmi al posto giusto, al momento giusto. Non sapevo che sarebbe diventata la campagna elettorale più assurda del Novecento, probabilmente. E questo ovviamente mi ha aiutato, diciamo, non so se è stata una buona cosa per il mondo, le elezioni di Trump, per la mia carriera sicuramente sì, su questo non c'è dubbio. Però ero molto impreparato, cioè non erano le campagne di crowdfunding preparate con un video, io ero molto impreparato a questa cosa, quindi la chiudo subito perché ho detto che ci faccio con questi soldi. Poi ho detto ok, vado in America, lavoro, faccio delle inchieste, restituisco in qualche modo ai lettori qualcosa. Quando da costa a costa riparte nel 2017 con la seconda stagione che è durata tutto l'anno, a quel punto da subito dico ai lettori e agli ascoltatori, perché era già, diciamo, sia un newsletter che un podcast, faccio questa cosa tutto l'anno, è gratis per tutti, però vi chiedo di contribuire con quello che volete, sapendo che chi contribuisce non ottiene nulla in cambio, cioè non c'erano dei contenuti premium, era solo per il gusto di finanziare una cosa che ti piaceva, e stai dicendo anche naturalmente più soldi riusciamo a raccogliere insieme e più viaggi posso fare, più cose posso darvi naturalmente. E quindi arrivano questi 33 mila euro, più altri 7 mila circa da un paio di sponsor, che mi permettono di andare in Michigan, di andare in Texas, di andare in California, di pagarmi degli abbonamenti a più giornali, di pagarmi un'attrezzatura un po' più professionale, e di pagare anche il mio lavoro, non tantissimo, però essendo insomma un lavoro ho ricavato qualcosina che pagasse le spese del mio lavoro. E ha funzionato, diciamo, e ha cambiato la mia carriera perché poi mi invitano ai festival a parlare di Trump, mi capita di fare interviste come questa, mi è capitato di lavorare per la TV, occupandomi di America, di andare ospiti a Sky, qualcuno che mi chiede perché non scrivi un libro, tutte queste cose sono nate da costa a costa. Ma com'è che è nata invece la tua passione per la politica americana? Perché non è una passione così comune. È nata per una serie di eventi che si sono abbastanza casuali, che sono arrivati nello stesso momento. Il primo era il 2007, io mi ero appena laureato e mi ero trasferito a Roma, da Catania, per provare a fare il giornalista. E quindi era in una fase in cui provavo a immaginare il mio futuro non da studente per la prima volta. Vivevo da solo a Roma ed ero ancora in quella fase iniziale in cui non mi ero ancora fatto tanti amici, se quando arrivi in una nuova città non è che conosci tanta gente. Quindi frequentavo l'università, prendevo trenta tutte le materie perché studiavo tutto il giorno non avendo amici. Poi questa cosa è finita abbastanza presto. E avevo molto tempo libero e quindi l'altra cosa che avevo fatto, ma anche lì abbastanza per caso, è cominciato a guardare The West Wing, che è una serie TV degli anni 90-2000 sulla politica statunitense con Martin Sheen, scritto da Aaron Sorkin, una grande serie degli anni 90-2000 sulla politica americana, che racconta una vicenda della Casa Bianca per sette stagioni. Nel frattempo, altra cosa casuale che coincide con quel periodo, 2007 Barack Obama, questo tizio dal nome strano, nero, fico, carismatico, si canna dalle primarie del Partito Democratico sapendo che tutti hanno per scontato che le perderà perché Conte ha un'avversaria formidabile che è Hillary Clinton. Hillary Clinton peraltro del 2008-2007, quindi non quella più logora che abbiamo visto nel 2016, però è una campagna così da underdog, da candidato contro tutti, però con un grande messaggio positivo che mi appassiona e quindi comincio a guardare The West Wing, resto sveglio la notte a guardare i dibattiti delle primarie americane, comincio a studiare, a leggere libri, io ero laureato in scienze politiche, quindi poi qualcosa sapevo, qualcosa mi interessava. Tra l'altro la campagna di Obama è stata forse la prima ad utilizzare i social network e a utilizzarli nel modo corretto. È stata considerata quella campagna di sì, la prima campagna che ha fatto quello che loro chiamano grassroots activism, cioè coordinare e mobilitare le persone attraverso i social network per fare però delle azioni concrete, diciamo, che sia bussare le porte delle altre persone, raccogliere fondi. Tra l'altro è un tema ancora molto attuale il fatto di portare le persone da online a portarle offline, cioè non tenerle chiuse sempre in questi luoghi digitali, ma portarle proprio offline nelle piazze, a radunarle, è molto difficile. Volevo chiederti, viste appunto come sono andate le elezioni, cosa ne pensi oggi della macropolitica che c'è attualmente fra Russia, America, Cina e soprattutto in questa guerra commerciale l'Europa? L'Europa non c'è, ti direi quasi che non esista e non per ricorrere alla solita battuta di Kissinger, se voglio telefonare all'Europa qual è il numero di telefono dell'Europa, perché in realtà ci sono tanti stati nazionali. E' un periodo che sta premiando molto le relazioni bilaterali tra i paesi europei e gli Stati Uniti e la Cina, l'Italia firma quel memorandum con la Cina, e più che l'Europa in sé. E questo perché un tratto che caratterizza la nostra epoca, ma non dico niente che non sia noto, è un grande ritorno dell'importanza dell'enfasi sugli stati nazionali. E' come se la globalizzazione, che secondo me ha avuto un bilancio straordinariamente positivo, o meglio, le cose positive eccedono quelle negative. Noi le guardiamo dal nostro punto di vista di Europa anche un po' in declino e capisco che facciamo fatica, ma ci sono centinaia di milioni di persone che sono uscite dalla povertà in Cina, in Africa, e quindi da un punto di vista globale questo ha dato una grossa mano al pianeta. Mi permetto di aggiungere che ho letto poco tempo fa un libro che si chiama Factfulness, che parla proprio di questa cosa, della percezione che noi ascoltando le notizie quotidiane abbiamo sempre la percezione che il mondo stia andando in negativo, che sono più le notizie negative di quelle positive. La realtà dei fatti è perché quelle negative attirano di più l'attenzione, ma se andiamo a vedere poi sul lungo periodo, se andiamo a vedere la percezione del mondo che abbiamo noi, è una percezione del mondo di 50 anni fa, e che effettivamente negli ultimi 50 anni sono uscite un sacco di persone dalla povertà. Guardi i dati sulla scolarizzazione, sulla mortalità infantile, sulla mortalità delle madri. L'istruzione delle donne. È inevitabile dire che per quanto questo momento non sia perfetto, ovviamente, ma viviamo nel miglior momento della storia dell'uomo, senza ombra di dubbio, e anche dal punto di vista ambientale, che è evidentemente il nostro enorme problema che abbiamo tra le mani, oggi esiste una sensibilità, per quanto limitata, quello che vuoi, che 20 anni fa, 30 anni fa ci sognavamo, e quindi, insomma, siamo abbastanza ben posizionati. Detto questo, sta avvenendo una sorta di rinculo, cioè la storia non va mai per linee rette, va a zigzag. Siamo in una fase in cui la globalizzazione viene vista da tantissime persone con buoni argomenti, soprattutto in Occidente, come portatrice di precarietà, di rischi, di nuovi rischi, nel senso che sei esposto a nuove concorrenze a cui non immaginavi di esporti. La crisi del 2008-2009 ha lasciato delle grosse cicatrici un po' dappertutto, soprattutto nei posti che detenevano il potere economico, parlo degli Stati Uniti e parlo dell'Europa. Mega ritorno del nazionalismo, delle politiche identitarie, dell'avversione a chi è straniero in quanto tale, al di là, diciamo... Si sta verificando proprio in tutto l'Occidente, dall'America, dagli Stati Uniti, alla Brexit, in Italia, sappiamo com'è la situazione. In Francia, l'Europa... Esatto. E tutto questo poi ha delle conseguenze. La guerra commerciale tra Stati Uniti e Cina, che ha delle conseguenze poi per gli agricoltori dell'Iowa, cioè molto concrete per molte persone, diventa un'occasione poi per... è un pretesto per risolvere tanti conflitti latenti nel mondo del business. In Cina, la libera impresa esiste nei termini in cui lo Stato e il Partito Comunista decidono che tu sei libero, ma non c'è una grandissima autonomia delle imprese. Dall'altra parte, come dicevi tu, gli Stati Uniti spiano tutti. Cioè, l'autonomia delle imprese tecnologiche statunitensi e i limiti di questa autonomia ce li ha mostrati Edward Snowden, quando ha mostrato quanto fosse pervasiva la campagna di spionaggio della National Security Agency e quanto fossero collaborative le aziende. Quindi, diciamo, è naturalmente... non voglio mettere tutti sullo stesso piano. Cioè, da una parte c'è una democrazia e dall'altra no. Nel podcast Risho, che è sempre di piano P, c'è un... e parla della Cina, parla della cultura cinese e mi è piaciuta molto una frase che dice, che non conoscevo, che il motto americano, o perlomeno quello occidentale, è che tutti noi, cioè ognuno di noi, da solo può raggiungere il successo, può raggiungere la felicità, però da solo. Mentre il motto cinese è proprio l'opposto. Cioè, la Cina può avere successo grazie ai cinesi. Tu pensi, nel futuro, nel prossimo futuro, quale visione avrà la meglio? È difficile dirlo, perché oggi il modello vincente sembra essere quello di un potere centrale molto forte, che ha un controllo magari non totale, ma comunque potente sull'economia. Una capacità di pianificazione, quindi, che sfida anche le regole della democrazia, che ti obbligano ogni 4-5 anni a magari rinegoziare e cambiare tutto. È un apparato di sicurezza pervasivo che risolve i conflitti sociali, diciamo, in modo poliziesco, piuttosto che politico. Risolverli in modo politico a volte è un processo dolorosissimo, laborioso, infinito. Risolverli in modo poliziesco a volte è abbastanza più semplice. I cinesi, evidentemente, non sono oggi, secondo me, attratti dal modello americano, di democrazia, diciamo, tradizionale. Ma non fosse altro che perché questo modello li ha portati a uscire dalla povertà, ad avere oggi la seconda economia del mondo, ma sappiamo già, entro qualche anno, la prima. Grandissimo sviluppo, grandissima influenza. E soprattutto hanno voglia di rivincita loro. E il partito ha capito che doveva cambiare, adeguare il suo comportamento rispetto alle libertà personali nel corso del tempo. Da piazza Tiananmen in poi la Cina è diventata un paese relativamente più aperto, relativamente più libero. Non è il tipo di dittatura che noi vediamo in altri paesi comunisti, dalla Corea del Nord. È una dittatura, sì, in cui però esiste una qualche forma di accountability, tutto governato dal partito, tutto molto oscuro, però dentro il partito si fa carriera non per dinastia padre-figlio, come in Corea del Nord, si fa carriera per ragioni politiche. Quindi, insomma, è proprio un modello differente. Secondo me, ripeto, non andrebbe visto in termini di bene e male. Ha un costo in termini di sofferenze notevolissimo. Abbiamo visto, intanto la Cina continua a essere il primo paese al mondo per condanni a morte di gran lunga rispetto agli altri paesi del mondo e la repressione politica fa sì che chiunque possa essere arrestato dall'oggi al domani, ma anche, l'abbiamo visto con attori famosi, con modelle, con personalità, imprenditori, può essere arrestato dall'oggi al domani senza motivo e nessuno saprà più nulla di te. E quindi, insomma, è un posto in cui lo stato di polizia si fa sentire quando deve. Ma è in questo gioco di elasticità, diciamo, che la Cina sta adeguando e ha adeguato il suo modello nel corso degli anni. Io comincerai invece a pensare, insieme a te adesso qua nel podcast, un pochino più in piccolo e spostarci in Europa e precisamente a Milano. Chi sono i milanesi, Francesco? Bella domanda. I milanesi, una cosa che mi hanno insegnato quando sono arrivato e che poi ho capito, che ho visto nei fatti, mi hanno insegnato le persone che ho trovato qui a Milano, i milanesi sono quelli che abitano a Milano ed è molto semplice ed è una cosa che è talmente semplice a Milano quanto è impensabile fuori da Milano, perché se dici ai fiorentini che fiorentini si diventa o ai romani che basta abitare a Roma per essere romani, guarda, non so, ma qualcuno si offende pure, immagino. Milano, a Milano questa cosa non esiste. Ma anche nelle piccole province, così, difficilmente ti riesci ad integrare. Una cosa che io ho sentito particolarmente quando sono arrivato a Milano è che mi sono sentito subito parte di Milano, cosa che magari per vent'anni non mi sono sentito nella mia città. Guarda, secondo me per due motivi questa cosa accade. Il primo è che in Italia ci sono una quantità di stupidissime rivalità campanilistiche, ma la nostra cultura è impregnata di queste cose e fa impressione. Qualcuno un giorno dovrà dire ai Livornesi e ai Pisani, che sono identici, ai Bergamaschi e ai Bresciani, guardate che visti dalla giusta distanza siete esattamente la stessa cosa, c'è questa differenza che non esiste. E invece c'è una grande rivendicazione di nascita per cui, eh ma io sono di qua, sei di là e quindi ci dobbiamo detestare o comunque guardare di strano. A Milano questo non esiste perché ha sempre accolto persone da tutte le parti d'Italia del Novecento e quindi anche chi oggi è nato a Milano probabilmente ha un genitore che non è di Milano, è molto difficile leggere la provenienza. E poi Milano è una città che non ti ricorda che sei straniero ogni giorno. Io quando sono andato a vivere a Roma sul momento mi sono sentito molto accolto perché tu vai dal salumiere e il salumiere ti apostrofa col romanesco e ti dice ragazzi che... E quindi dice beh guarda come mi danno confidenza, sono stato accolto nella città. In realtà loro hanno questo modo di fare, ovviamente simpatico e divertente, guascone eccetera, l'uso della parlata dialettale ti ricorda comunque che tu non sei del posto, a meno che poi in un certo punto non decidi di imitare l'accento. A Milano quella cosa non c'è, Milano se tu vuoi farti i fatti tuoi, ti lascia integrare con calma, con i tuoi tempi e non hai dappertutto persone che ti sbattono in faccia anche in buona fede ma continuamente il fatto che tu non sei come loro del Milano. Che tu non sei un F205 mi verrebbe da dire. Esatto. Perché l'F205 è quel codice che c'è nel nostro codice fiscale, sono quelle quattro cifre. Che dicono in che città sei nato. Esatto, perché io mi sono andato a prendere una dichiarazione che ho letto sul Milanese imbruttito e dice, l'F205 è la certificazione nero su bianco di una nascita Milano Milano Original. È infatti il codice che il caro Giargiana non avrà mai e sottolineiamo mai nel suo codice fiscale. Questo è in qualche modo la reazione delle minoranze minacciate dall'estinzione, nel senso che dato che Milano e tutte queste cose che ne abbiamo detto, e io di F205 ne conosco pochi, e quelli che sono milanesi diciamo anche non solo nati qui ma figli di genitori nati a Milano sono veramente pochissimi, quei pochi hanno sviluppato una specie di orgoglio da panda, per cui io sono un F205, ma è veramente un orgoglio da panda ed è anche messo in modo spesso giocoso come fa il milanese imbruttito. Sai cosa? Che Milano sembra per l'occupazione, per il modo di pensare, sembra per l'occupazione in termini lavorativi, sembra veramente staccata dall'Italia. Nel tuo podcast dici che i centri per l'occupazione, per trovare lavoro, in media in Italia trovano il lavoro al 2,4-5%, a Milano è 10 volte tanto. 24%. Ma come mai a Milano si è riuscito a creare questo contesto, questo tessuto sociale e soprattutto a Milano il lavoro? Quanto è importante secondo te? Beh dunque a Milano il lavoro è la religione delle persone, tant'è che Milano per esempio è una città molto difficile in cui vivere se sei disoccupato, ma proprio dal punto di vista sociale è una condizione più rara, più complessa, vieni guardato in modo diverso. Poi a Milano il lavoro c'è, non lo creano le agenzie per il lavoro naturalmente, però l'agenzia per il lavoro di Milano funziona in modo diverso da tutte le altre d'Italia e quindi forse lì un modello da imitare potrebbe esserci, perché è molto centralizzata, perché offre corsi di formazione. Conta che è il player nel settore che trova più opportunità lavorative persino rispetto alle società private, Manpower, Adecco, l'agenzia per il lavoro di Milano è al numero uno nella provincia. E poi c'è un tessuto economico e industriale che ha avuto la capacità di cambiare più volte nel corso del tempo, questo è non l'unico ma un ingrediente fondamentale. Noi oggi siamo abituati a considerare certe città italiane, certi distretti come caratterizzati da un tipo di settore industriale. Il tessile in certe province della Toscana, l'industria pesante in Piemonte, torno a Torino, in certe parti della Lombardia. Queste cose però sono cambiate nel corso del tempo e quello che è successo è che quando queste industrie sono andate in crisi, lo Stato con le migliori intenzioni nella gran parte dei casi ha provato a tenere in vita questi settori industriali in modo artificiale, sussidi, cassa integrazione a volte anche dopo i fallimenti delle aziende all'infinito. Milano si è sempre saputa molto reinventare avendo il coraggio di fare una cosa che a me piace tantissimo, che è fregarsene del passato, è stata sempre molto dissacrante e ha cambiato più di una volta nel corso del tempo, ha dato una sterzata. Oggi Milano è nota tra le altre cose per essere la città della moda ed è una delle città della moda più importanti del mondo, è un enorme business, un sacco di soldi. E sembra che è da sempre così. E invece è successo l'altro ieri, a fine anni 80, inizio anni 90, un po' c'erano degli stilisti giovani, bravi, Armani, Versace, Dolce Gabbana arrivano, che quindi attirano un po' di attenzioni. Ma trovano a Milano un contesto adatto a trasformare la città e improvvisamente Milano, che era la città grigia dell'industria, della nebbia, dello smog, diventa tra le altre cose la città del glamour, della moda, perché Milano ha questa capacità di sterzare a un certo punto. Lo sta facendo adesso di nuovo col turismo. Milano ha più turisti di Venezia, per fare un esempio. Wow, non lo sapevo. Che figata. Secondo alcuni dati anche di Roma, però i dati sui turisti sono sempre complicati da leggere. Ma in grandissimo aumento il numero dei ristoranti e degli hotel si è raddoppiato negli ultimi anni. Ma infatti io questa cosa la applicherei anche proprio dal punto di vista urbanistico, dal punto di vista dello skyline anche. Sono poche le città italiane, anzi mi viene in mente quasi nessuna. Che sono cambiate così tanto esteriormente. Esteriormente, sì. Quando tu guardi Milano, dall'alto, da fuori, da una collinetta, vedi che lo skyline è moderno, è nuovo. È stato fatto meno di dieci anni fa. Quale altra città in Italia può dire di avere cambiato così radicalmente la propria identità? E anche entrando invece più vicino nella città, i negozi hanno un'altra identità. È una cosa che nelle altre città invece sembra che giri tutto in modo un pochino più lento. Non voglio parlare male delle altre città, è solo bene di Milano, però è una cosa positiva e negativa allo stesso tempo sicuramente per il lavoro positivo. Sì, ma sai, il fenomeno di cui parlavi, i ristoranti che aprono e chiudono in continuazione ovviamente sono un risultato della forte pressione che poi porta questo tipo di sviluppo. Nel senso che qualcuno forse ha pensato, specialmente qui in Isola, che è un quartiere che ha avuto un grande sviluppo negli ultimi 15 anni, che basti aprire un ristorante, un locale, un andrà sicuramente bene perché qui la sera è pieno di gente. In realtà le persone sono esigenti e capiscono quando un locale ha un senso e quando no. E quindi c'è un forte ricambio, è più difficile buttarsi oggi rispetto a qualche tempo fa. Però questi sono ritmi di sviluppo da città dell'Oriente, del mondo, da grande città americana, quelle piene di cantieri da Chicago a San Francisco a Los Angeles, non da città italiana. E anche in questo c'è stato secondo me un grande coraggio. Pensiamo all'approccio che hanno le città italiane nei confronti dei grandi eventi, che sono potenzialmente dei grandi motori di sviluppo e di innovazione. Scetticismo, non ci candidiamo nemmeno perché poi se no arrivano i corrotti. Ma il compito dello Stato è far sì che i corrotti non arrivino, che non arrivino le truffe, gli imbrogli, che allora per paura di cui riesco non si faccia nulla. A Milano si è fatto ed è servito. Pensiamo a quello che accade a Roma per un investimento americano, del famoso stadio, che poi in realtà è un grande complesso di palazzi, grattacieli. Da dieci anni sono fermi ancora alle carte bollate. A Milano si è fatto City Life. Se tu pensi City Life, i grattacieli nella ex fiera, Porta Nuova, Gaia Olenti, tutto il distretto attorno, e la Darsena. Sono tre pezzi di Milano importanti, se provi a immaginare come sarebbe la tua vita senza questi tre posti, la tua routine, mancherebbero una serie di cose, esistono da dieci anni. La città è cambiata radicalmente. Anche molto meno. Anche molto meno, in qualche caso. La Darsena è nel 2015. Sì, fai conto che quando io sono arrivato a Milano era il 2014. Sono arrivato a Milano per studiare, come tante altre persone, e poi ci sono rimasto perché effettivamente il tessuto sociale lavorativo mi permetteva di poter lavorare, a differenza invece di restare in provincia. E inconsapevolmente sono arrivato nel momento del boom di Milano perché nel 2015 c'è stato l'Expo. Secondo te l'Expo è stata la miccia che poi dopo ha fatto scatenare questa evoluzione, oppure sono stati vari passaggi anche nel corso delle amministrazioni precedenti che hanno poi dopo permesso a Milano oggi di essere così attrattiva come città? Ma sono veri entrambe le cose. Allora, Expo è stata la miccia. E adesso ti spiego perché secondo me. Non si arriva a Expo e Milano non si candida a Expo e non ottiene Expo se non perché Milano era una città ben amministrata. Poi con un sacco di problemi perché i posti perfetti non esistono. Però Milano arriva a fare quella candidatura e arriva a vincere quella candidatura perché era una città che funzionava, che aveva dei progetti. Quindi tutto quello fatto prima esiste. Quello che fa Expo è che fa da catalizzatore per tantissime cose che prescindono anche dall'evento. Cioè in questo senso l'esposizione in sé, quello che abbiamo visto negli stand e nei padiglioni, dal mio punto di vista non era nemmeno un granché. Cioè non è che tu arriviavi lì e dicevi che cosa incredibile. No, ma poi se ne parlava malissimo. Io mi ricordo i giornali, i telegiornali all'epoca, all'epoca, nel 2015, e parlavano di Expo come uno spreco di soldi, come un ritardo incredibile e che effettivamente era iniziato e gli stand ancora non erano pronti. Ci furono tantissimi problemi nella gestazione di Expo e ripeto l'esposizione in sé non era una roba indimenticabile. Però quello che ti raccontano le persone per esempio che lavoravano al comune in quegli anni, ti dicono che per due anni praticamente non hanno fatto altro ogni giorno che parlare con persone della città, associazioni di volontariato e imprese italiane e straniere che avevano un progetto su Milano per Expo, in occasione di Expo, in previsione di quella grande quantità di persone, che fosse un progetto di cambiamento di una piazza, di lancio di un nuovo prodotto, di una nuova campagna di sensibilizzazione su qualcosa, di cambiamo... i co-working per esempio, quello in cui ci troviamo. Sono passati da due a qualche decina nel giro di pochissimi anni. Fai conto che è stato qua come ospite della prima stagione il creatore della rete Covo, che lui ha iniziato nel 2008, mi pare, in quegli anni e la gente non sapeva nemmeno cosa fosse un co-working. Dieci anni dopo Milano sappiamo effettivamente che se tu vuoi lavorare è molto più conveniente, molto più bello e molto più stimolante e soprattutto produttivo lavorare in un co-working rispetto a che prenderti un ufficio tuo privato. Quella è una delle tante esplosioni economiche in città, quella dei co-working. E tutto questo, tutte queste iniziative personali hanno trovato in Expo come una specie di imbuto, si sono infilate lì dentro e in un certo punto nel 2015 sono fiorite tutte e hanno dato alla città un impulso che è proseguito molto oltre l'esposizione. Tant'è che Milano è diventata una grande città turistica anche perché il giro di passaparola che si è creato nel mondo dopo Expo, una serie di infrastrutture che furono fatte per Expo oggi sono al servizio della città, pensiamo alla Metrolilla, la Metro 4 che aprirà tra pochi mesi, speriamo, e anche in termini economici, questo tipo di sviluppo economico in un tessuto che comunque era già abbastanza sano ha dato alla città un grande coraggio, una grande voglia di disponibilità al futuro, di curiosità che prima non c'era. Milano viene da anni 90, anni Tetri, Tangentopoli, la corruzione, Milano è stata commissariata, insomma. Ma infatti per tante persone che non vivono a Milano, Milano un po' è ancora quella cosa lì, Milano è ancora la città grigia, la città dello smog, ovviamente noi adesso stiamo parlando di tutti i punti positivi di Milano, però ci sono anche dei punti negativi. Uno dei temi che tocchi tu è quello della gentrificazione, siccome abbiamo parlato già di isola, è un quartiere che ha subito una forte rivalutazione e una riqualificazione soprattutto. Problema degli affitti, perché a Milano è un problema che è super sentito quello degli affitti. Ogni persona con cui parlo ha questo dannato problema della casa. A Milano è difficilissimo trovare una casa, trovare una casa bella, trovare una casa che abbia un costo accessibile soprattutto. E questo è dovuto alla gentrificazione, cioè quando, tu dici un quartiere, diventa popolato da persone con i risvoltini e i moccassini e gli hipster. O semplicemente, anche dalla legge della domanda dell'offerta, nel senso che Milano è una città piccola. Milano non è nemmeno tra i cento comuni più grandi d'Italia. È molto piccola, sì. E quindi l'offerta è una città fitta, ma l'offerta di casa non è sconfinata. E oggi è vero che i prezzi degli affitti, ma anche i prezzi delle case da comprare, sono saliti tantissimo. Quando io sono arrivato qui nel 2010 trovai in affitto una casa in isola più grande a un prezzo più basso rispetto alla mia casa di Roma. Il mercato era molto diverso all'epoca, però negli ultimi dieci anni c'è stata un'accelerazione pazzesca. Sì, io sono arrivato nel quattro anni dopo di te, nel 2013-2014, per studiare in una stanza, quindi presi una stanza singola e ad oggi il costo di una stanza singola di quelle dimensioni è il doppio. E sono passati cinque anni, incredibile questa cosa. Guarda, da una parte c'è la gentrificazione di cui parli, che poi è un fenomeno appunto che ha tanti risvolti perché spesso viene visto in opposizione al degrado. Allora, c'è un quartiere degradato, sporco, non sicuro, con poche opportunità, anche poche occasioni di incontro, eccetera. Le case costano molto poco per questo motivo, perché c'è poca gente che ci vuole andare a stare, diciamo, in sostanza. E allora qual è la via d'uscita? A un certo punto il comune magari ci investe dei soldi, i marcipiedi vengono ricostruiti e restaurati, le strade vengono pulite più di frequente, ci sono magari degli incentivi per far sì che i palazzi diventino più belli, più gradevoli, posti migliori in cui vivere per le persone normali, non si parla di grande lusso. Magari allora apre un ufficio e allora il fatto che ci siano più persone che arrivano lì fa sì che avrà anche un locale perché offre il pranzo. Insomma, i quartieri cambiano in questo modo. A un certo punto quella zona viene, dato che è in gran miglioramento, ma gli affitti costano poco, comincia a essere presa, diciamo, di mira da chi arriva e cerca casa, specialmente magari i più giovani, studenti, creativi, che quindi portano attorno a sé e creano attorno a sé un contesto culturale più vivace, di locali. Il quartiere diventa figo, diventa alla moda. I prezzi degli affitti salgono perché aumenta la domanda, ma l'offerta rimane quella lì. Qualche residente si trova a quel punto a essere espulso dal quartiere perché non può più permettersi l'affitto che esiste, che è cambiato in quella zona. È una cosa molto... che avviene anche molto in America, mi viene in mente San Francisco. San Francisco è la città in assoluto che ha il più grosso problema di questo tipo perché è molto piccola e i permessi per costruire nuovi appartamenti, nuove case sono difficilissimi da ottenere, anche perché serve una specie di autorizzazione dei residenti che non vogliono darli perché l'aumento dell'offerta farebbe depreciare le loro case, quindi c'è un problema anche di homelessness pazzesco. Però io sono contrario a vedere la gentrificazione come unica alternativa al degrado e quindi che uno deve scegliere se avere un quartiere che faccia schifo oppure un quartiere più carino in cui stanno solo quelli che se lo possono permettere. Il punto è che secondo me è più il caso di parlare di gentrificazione quando i quartieri diventano molto simili, si omologano l'un l'altro, i negozi sono tutti gli stessi, gli stessi marchi proprio, si somigliano tutti, perdono un po' la loro identità. Però non penso che stia avvenendo questo a Milano. No, quello che sta accadendo è che la città sta ricevendo molte attenzioni, molte persone che vogliono venire a vivere a Milano e lo fanno e molte persone che vogliono comprare a Milano per investire e non ha ancora un'infrastruttura, anche in termini di offerte immobiliare, adeguata a questa sua nuova dimensione che ha trovato da qualche anno. Si sta costruendo, si sta cominciando a sfruttare un'area diciamo semicentrale e periferica che però in una città piccola come Milano sei a un quarto d'ora, venti minuti dal centro, quello che a Roma tu impieghi per andare veramente dall'altro angolo del tuo quartiere, quindi diciamo niente di anomalo. Poi in una città con i mezzi pubblici che funzionano, però ci vuole tempo. La stessa trasformazione degli scali ferroviari, che è una delle più grandi che affronterà Milano nell'ultimo secolo sicuramente, sette scali ferroviari dismessi da oltre un milione di metri quadrati che saranno trasformati da qui a 5, 6, 10 anni, con molti palazzi, uno anche qui dietro, lo scalofarini, con molte opportunità immobiliari anche a prezzi calmierati, edilizia residenziale pubblica, darà una mano perché l'unico modo secondo me per far sì che sia meno difficile trovare casa è aumentare l'offerta in questo momento e quindi lavorare su quel fronte. L'altro è lavorare sulle case sfitte, però lì ci vuole un intervento nazionale. Bisogna rendere secondo me meno conveniente tenere una casa sfitta, chiusa, immobile, con la leva fiscale evidentemente e rendere più conveniente metterla sul mercato in affitto. È difficile, l'Italia ha questa strana situazione per cui è molto più costoso affittare che comprare casa, che se ci pensi è assurdo. Sì, è vero, è vero. Io pago meno di mutuo adesso che ho una casa di proprietà rispetto a quanto pagavo d'affitto, non ha nessun senso. Sì, è vero, ed è unico questa situazione nel panorama nazionale. Senti, cos'è che tu odi di Milano? Non so se anche tu condividi questa opinione, ma io Milano l'amo e non vedo altra città in Italia dove poter vivere, però la odio terribilmente anche allo stesso tempo. Uno, per me uno dei problemi è l'affitto, quello che abbiamo appena detto. Per te è un altro problema? Ti direi l'aria. Respirare a Milano è faticoso, è velenoso, è un'aria terribile che non riguarda solo Milano, la pianura padana, anche perché la conformazione del territorio non aiuta, però Milano ha un grosso problema di qualità dell'aria, che è una conseguenza del suo problema di presenza delle automobili. Una cosa che ho notato quando sono venuto a vivere qui, che ci sono le auto parcheggiate sul marciapiede. I parcheggi creativi? Sì, sono siciliano, sono professionista di parcheggi creativi, però lo noti, dici guarda quello che è parcheggiato sul marciapiede. A Milano è ovunque, per cui non ti viene nemmeno da prendertela col proprietario della macchina in questione, perché se ci sono i marciapiedi totalmente pieni di auto, capisci dove le metti. Il numero delle auto in città è diminuito molto negli ultimi anni. Sì, ed è infatti uno dei motivi è proprio il car sharing, che è arrivato proprio negli anni di Expo. Mi ricordo che era il 2014-2015, sono arrivati tutti insieme. Si calcola che ogni auto del car sharing toglie dalle strade 15-16 macchine, quindi l'impatto è grosso, ma il numero delle auto dei residenti è sceso tantissimo, ma ci sono 600.000 auto di non residenti che ogni giorno entrano a Milano. Esatto, è quello un po' il problema, perché se guardiamo Milano il sabato e la domenica, vediamo che le strade ti sembrano completamente diverse, perché sono molto più larghe, perché non ci sono le auto parcheggiate. Sembra di essere in un'altra città. Da una parte è perché i milanesi il weekend se ne vanno via, è proprio risaputo, se ne vanno in montagna, se ne vanno in Liguria. Oggi è meno di un tempo, però è vero, rimane questa cosa. C'è un po' ancora questa cosa, che appena c'è il sole, soprattutto adesso poi è stagione, e quindi si comincia a rasuotare la città. E dall'altro punto di vista sono tutte le persone che fanno i pendolari o comunque che usano la città solamente per lavorare. Per questo da una parte la città ha già messo in progetto l'allungamento della metropolitana fino a Monza, per esempio. Cioè bisogna far sì che chi arriva da fuori abbia dei modi comodi per arrivare in città. Qui non tocchiamo il grande tasto Trenord, però è un grande tasto. Cioè la qualità dei trasporti di Trenord non è adeguata al territorio Lombardo e alla sua economia. Però al stesso tempo fa la città ha fatto area B, cioè la più grande ZTL d'Italia, in cui i veicoli più inquinanti non possono entrare. Ma dato che l'infrastruttura esiste, poi potrà essere anche aumentato il criterio per entrare o no in città. Cioè oggi solo i veicoli più inquinanti non possono entrare, magari tra qualche anno anche quelli un po' meno. La città sta cercando di affrontare questo tema. E' un tema molto difficile. Ma anche perché noi vediamo le città che hanno dei confini territoriali, però se tu alzi gli occhi quei confini non esistono più. Pure se Milano facesse le norme più fighe, più moderne sull'inquinamento, è circondata da un Interland che è molto urbanizzato, che è molto industrializzato, per cui serverebbe probabilmente un intervento anche un intervento più massiccio da parte delle autorità nazionali e sovranazionali. Detto questo, io da quando sono a Milano mi rendo conto che la qualità dell'aria è molto diversa rispetto a quella che respiravo altrove, che le macchine sono le padroni della città e questa è una cosa della città che non mi piace. A proposito di traffico, un altro punto che aggiungo a sfavore di Milano sono le piste ciclabili. Mancano molto, hanno provato... Allora abbiamo una rete di biciclette, le bike.me, quelle comunali, che è pazzesco. Sono un po' scassate, devo dire, negli ultimi anni, perché le usano tante persone, hanno fatto record di abbonamenti. Il problema è che non ci sono le piste ciclabili e i padroni della strada sono gli automobilisti. Ma sai, una cosa che ho imparato proprio studiando per fare quel podcast è che bisogna proprio ribaltare il tema. Anche gli attivisti, i ciclisti più appassionati oggi ti dicono il punto non è costruire nuove piste ciclabili. Ovviamente male non fanno, però il punto non è quello. Il punto è rendere la strada non un monopolio delle auto, quindi renderla più sicura per i ciclisti. Per esempio, le zone 30 per i ciclisti sono fondamentali, perché oggi a Milano si è arrivati, secondo molti, a una specie di punto di saturazione sulle bici. Cioè, chi si sente sicuro abbastanza da girare in bici a Milano lo fa, però non ci sono tante altre persone che non hanno dimestichezza e che provano a fare questo esperimento. Io ho girato in bici a Milano per qualche anno, poi ho detto forse è meglio evitare di rischiare la vita ogni giorno e ho preso uno scooter. Anche i ciclisti oggi ti dicono che la prima cosa da fare non è costruire nuove piste ciclabili, è far sì che la strada sia accogliente anche per chi va in bici e anche per chi non ha grande dimestichezza con la bici. Non devi essere un fomentato col caschetto per poter andare in bici a Milano, devi farlo anche una vecchietta che va a farsi la spesa. Oggi è impossibile. Eh sì, è impossibile. In questo momento secondo me stiamo un po' sulle scatole a tutte le persone che non vivono a Milano perché diranno ecco, i soliti milanesi che parlano della grande Milano come se fosse... è un po' così che si vede in provincia la percezione dei milanesi, almeno da dove provengo io è sempre stato così. Guarda, un po' perché i milanesi hanno sempre avuto... sono un po' sempre stati i primi della classe e lo hanno sempre fatto notare. E quindi capisco che questa cosa possa risultare antipatica a un certo punto e comunque essere percepita in modo avversativo. E poi perché i milanesi sono molto esigenti tendono a notare tutte le cose che non funzionano in modo... Cioè se un milanese arriva alla fermata dell'autobus e dopo cinque minuti l'autobus non è passato si incavola da morire. Ci sono posti d'Italia in cui se passa dopo venti minuti si festeggia e quindi i milanesi lo fanno notare molto. Arrivano a Roma e dicono ma com'è che questa città funziona in questo modo. Dall'altra parte però, al di là di quanto ci possono stare simpatici a noi milanesi, ci sono una serie di ingredienti che hanno favorito lo sviluppo di Milano che non sono esclusivi della città. Cioè non è che Milano va bene perché ha scoperto di avere il petrolio, no? Per cui che fortuna. Sono cose che possono essere imitate, che possono essere fatte altrove, allo stesso modo, forse anche meglio. E quindi conoscere il successo di Milano oggi è un modo... dovremmo accantonare queste rivalità. È un modo per imparare, è un modello che può funzionare tranquillamente altrove. Ok, basta quindi parlare di Milano perché sennò stiamo sulle scatole a chi non è di Milano. Io volevo parlare con te dell'argomento invece giornalismo perché secondo me il giornalismo è una professione che come altre professioni creative nel settore delle arti visive, come può essere il fotografo, il video, l'illustratore, il grafico, sono tutte professioni che negli ultimi 15 anni hanno visto una rivoluzione, hanno visto cambiare completamente il mercato del lavoro, sia a livello di budget, sia a livello proprio tecnico. È cambiata completamente la loro professione, no? Con l'arrivo del digitale, con l'arrivo di internet. E il giornalismo secondo me... anzi io lo inserirei in questa rivoluzione che c'è stata. Qual è, dal tuo punto di vista, il futuro del giornalismo per sopravvivere? Perché poi c'è una massa enorme di persone che prova a fare il giornalista e pochi eletti effettivamente che ci possono vivere. È difficile, l'analisi che fai è giusta. C'è una crisi industriale, c'è una crisi dei modelli di business. I modi in cui i giornali facevano i soldi oggi non esistono più o non esistono più allo stesso modo. Si tratta di copie vendute nei casi dei cartacei, di raccolta pubblicitaria, anche nei casi dei giornali online che sta andando terribilmente male, anche perché nessuno ha mai cliccato su un banner pubblicitario volentieri, spontaneamente. Quindi forse arriva pure tardi questa crisi, visto l'insensatezza del modello. E c'è una crisi professionale. E secondo me sono due crisi diverse. Bisogna fare attenzione. La crisi professionale è una crisi di qualità. La qualità del giornalismo è precipitata. Questo forse è quello che lo rende diverso dalla crisi di cui parlavi tu rispetto ai designer, agli illustratori. Io non sono un esperto, però non mi sembra che sia stata una crisi della qualità del lavoro dei fotografi negli ultimi anni. Tutto altro. Anzi, nei casi dei giornali invece sì, tantissimo. C'è una crisi professionale pazzesca. Ok. E lo vediamo non dai siti di fake news, ma dalle notizie false che leggiamo sui giornali ogni giorno, i giornali quelli veri, dalle imprecisioni, dai rifusi, dalla sciatteria, dal sensazionalismo, dal modo in cui storie che non esistono vengono fatte diventare storie vere e viceversa. Insomma, qual è la via d'uscita? Secondo me sono due. E una è industriale e una è professionale. Ed è difficile naturalmente, non lo dico in modo semplice. Quella industriale è il ritorno a un modello di business sano. È un modello di business sano, secondo me, non faccio lezioni qui, ma quello con cui sono arrivato io, è un modello di business che si basa sui ricavi non pubblicitari, ma dai lettori. Cioè, le persone devono pagare per ottenere un contenuto informativo. Ci siamo disabituati, eh? Siamo molto disabituati. A lungo il contenuto non è stato meritevole di un pagamento, quindi figuriamoci. Anche perché dovendo fare concorrenza sulla gratuità perché è gratis per tutti, perché puntare sulla qualità? Tanto è gratis. Invece, bisogna tornare a un modello per cui io che sono giornalista non penso ai miei inserzionisti del mio giornale e alla raccolta pubblicitaria, ma penso a far tirare fuori dei soldi, diciamo, non agli inserzionisti, ma ai lettori. Giusto. Per farlo, secondo lato professionale, alzare la qualità. Devono essere dei contenuti perché valga la pena spendere dei soldi, quindi approfonditi, accurati, ben scritti o ben prodotti, se si tratti di altri, che siano, che vadano a prendere i lettori dove sono. Noi abbiamo molto nei giornalisti quella tendenza che è un po' anche dei politici, a dire, eh ma se non leggo il nostro giornale è colpa loro, cioè, e non ci hanno capiti. Alla gente non interessa la politica estera, alla gente interessano solo le stupidaggini. Sì, un po' è vero, nel senso che poi i boxini con il cane che abbai al ritmo di musica, i giornali ce li hanno perché le persone se le guardano. Però se continui a dare schifezze ai lettori e ascoltatori a un certo punto crei un mercato delle schifezze in cui è difficile convincere qualcuno a mettere dei soldi, anche gli inserzionisti. Infatti, argomento qualità, mi riaggancio perché secondo me questo è successo tanto nella musica e la musica sta trovando una via di uscita, o almeno ci sta provando, crisi in fine novecento, no? Fine, inizio anni duemila con la musica. Dovevi comprarti il cd per ascoltarti un singolo perché il cd era condito da altri pezzi che probabilmente erano bruttissimi. E quanto costava quel cd? Esatto. Costava quanto un abbonamento mensile di Spotify probabilmente, no? Sì, è vero, è vero, è vero. E quindi a un certo punto hanno detto, col cavolo che io pago più cd, pirateria, che si è risolta con appunto Spotify, l'abbonamento, no? Come dicevi tu. E stessa cosa sta succedendo per i film e quindi io penso che questa cosa succederà anche con il giornalismo. Com'è messa la situazione negli Stati Uniti invece? È uguale che in Italia oppure il modello di subscription, quindi di abbonamento, funziona di più? No, c'è un po' più vivacità. Un po' perché i giornali hanno più lettori. I giornali locali, soprattutto in America, sono una presenza molto forte e quindi insomma c'è un mercato più ampio. D'altra parte parliamo della più grossa economia del mondo, persone che stanno relativamente meglio dal punto di vista economico rispetto a molti altri paesi, quindi anche un grande mercato pubblicitario. L'economia americana è trainata dai consumi, più che da esportazioni. Il grosso sono consumi interni, quindi la pubblicità funziona tantissimo in America. Dall'altra parte c'è anche una, culturalmente, una maggiore quindi predisposizione a spendere dei soldi, a donare dei soldi, a pagare dei soldi anche online in cambio di qualcosa. E i giornali hanno, e ci sono nel settore dei giornali dei colossi che hanno le risorse per investire in innovazione, anche in programmi di subscription che non siano soltanto, qui c'è il nostro, metti qui i dati della carta di credito, paga e vedrai tutto, ma ha un modo di creare una comunità di lettori da coinvolgere in tantissime iniziative oltre che ha da chiedergli dei soldi. New York Times, Washington Post, Wall Street Journal, Boston Globe, Los Angeles Times hanno tutti delle forme di subscription diverse. Chi ti fa leggere 20 articoli al mese, chi non te ne fa leggere nessuno, chi solo alcuni, che prevedono poi un pagamento. Funzionano, vanno bene, Washington Post e New York Times stanno guadagnando tanti soldi in questo modo, stanno cambiando il loro modello di business, oggi incassano più da lì che dal cartaceo. C'è una qualità altissima, poi discutibile quanto vuoi nelle scelte editoriali eccetera, però chi legge la stampa americana sa che la qualità è molto più alta rispetto a quello che vediamo in Italia, ma di molti ordini di grandezza e quindi funziona. Poi non è detto che sia l'unica strada, io credo che poi ogni giornale troverà, trova in qualche modo la sua, però quel metodo funziona. I lettori devono pagare, devono pagare una cifra ragionevole, perché appunto i 12 euro per un cd oggi sembrano invenzabili, ne paghiamo 10, abbiamo tutta la musica del mondo. Deve essere una cifra ragionevole e il contenuto deve essere di qualità. Tutte queste cose sono difficili, però questa mi sembra la strada. Quale pensi a questo punto il futuro dell'informazione? Sai, il futuro, magari il futuro è un futuro invece di qualità terribile, disinformazione costante, la post-truth society come qualcuno protagonizzava, quindi chi lo sa. Se vogliamo parlare di un futuro al quale ci possa far piacere guardare, comunque un futuro positivo in cui l'informazione ha un ruolo nelle nostre società, per cui tutti siamo più informati e andiamo a votare, prendiamo decisioni sulla base dei fatti, credo che quello sia il modello, non l'unico, ma quello predominante del futuro, cioè un modello in cui si paga una cifra ragionevole per avere un contenuto di qualità. E in cui c'è un'informazione gratuita disponibile per tutti, ma che è un'informazione abbastanza limitata. Che questo sia quello che avverrà davvero poi non lo so, eh? Siccome ho fatto i compiti a casa, sono andato a guardarmi una tua intervista che avevi fatto, in cui dici una cosa molto bella, che è attualissima, secondo me, per tante professioni e soprattutto per le persone che ascoltano questo podcast, penso sia molto utile il fatto di darsi un tempo massimo, cioè vuoi provare a fare il giornalista, vuoi provare a inseguire la tua passione, che può essere appunto il giornalismo, la fotografia, il video, l'illustrazione, datti un tempo, no? Assolutamente, secondo me è una cosa, peraltro, come dici tu, molto urgente, e questo non vuol dire dire a qualcuno o a te stesso di abbandonare la tua passione, però la passione è una cosa, il lavoro è un'altra, se riesci a trasformare la tua passione in un lavoro, evviva, festeggiamo, siamo tutti contenti, datti un tempo però, secondo me, per fare questa cosa, perché il rischio è compromettere anche la passione, nel momento in cui tu provi a fare il fotografo per 5, 6, 7 anni e quindi vivere di quella passione lì e non ci riesci, a un certo punto il tuo rapporto con la fotografia, secondo me, cambia, è peggiora anche e viene compromesso, per cui capire, darsi un tempo massimo, capire anche il tipo di mercato che hai davanti, le tue chance, dopo un po' ti rendi conto anche di che tipo di margini hai di miglioramento, di posizionamento su quel mercato, se non riesci a un certo punto, secondo me, senza viverlo come un fallimento personale, continua a perseguire la tua passione nel tempo libero, in altri modi, senza vincolarla all'idea deve produrre un reddito, il reddito trovatelo in un altro modo, perché, come dicevi tu, ci sono un sacco di mestieri interessanti, belli, che anche se non sono il tuo mestiere ideale, d'altra parte, tutti noi facciamo dei compromessi nella vita su tutto, nessuno di noi ha il partner ideale, la casa ideale, vive nella città ideale, l'alimentazione ideale, il fisico ideale, quindi prendi un lavoro che sia un buon compromesso e coltiva la tua passione in un altro modo, però datti un tempo rispetto a trasformare la passione in un lavoro, nell'interesse di avere un lavoro che funzioni e non compromettere la tua passione. Sì, sì, anche perché aggiungo due cose, la prima è che per una persona creativa non riuscire a vivere della sua creatività, dei suoi contenuti è una cosa super frustrante, assolutamente, e dall'altra parte a un certo punto secondo me è importante fermarsi, io lo dico spesso, fermarsi ma per avere del tempo per pensare, per fare delle considerazioni su quello che hai fatto, cosa è sbagliato, cosa hai fatto giusto, fermarsi, perché vedi tutto da un'altra prospettiva, un pochino più lontano, lo vedi un pochino più aperto, come se tu quando lavori sei troppo impegnato, certe volte, per pensare e analizzare il fatto. Avere un'idea, avere una buona idea comporta una capacità di stacco dal mercato che hai davanti, di analisi, che è difficile trovare nel momento in cui tu sei freneticamente impegnato a trovare un lavoretto, un progetto, una roba che ti possa permettere di pagare la bolletta, cioè è difficile unire la capacità visionaria di lungo periodo che uno vorrebbe avere in quel contesto con il che fatture mi arrivano, che incasso il prossimo. Esatto, con il breve periodo, il lungo periodo contro il breve periodo, tante persone guardano solo il breve periodo, l'incasso, e invece magari fermarsi un attimo e guardare il lungo periodo è molto più profittevole. Cioè è molto più senso, secondo me, non sempre, a noi in tutti i contesti, ma lavorare come commesso in una libreria da qualche altra parte e usare, e quindi risolvere il tema di come pago le bollette e come pago l'affitto, non devo pensarci, lavoro tutto di oro al giorno e lo faccio, ovviamente al prezzo di un sacrificio, però le passioni comportano sempre sacrifici, usare il tempo libero per provare col tempo che serve a farsi venire un'idea, a coltivare la propria passione e magari trasformarla in un lavoro, sì, però sommare e unire le due cose può funzionare solo fino a un certo punto. Quando la ricerca diventa vuota e diventa disperata, uno rischia di perdere entrambe le cose. Il lavoro, quindi il reddito, e la passione nel senso autentico e positivo che era una volta. Francesco, tre libri che ci consigli da leggere? Wow, io devo confessare che non sono un grandissimo lettore, purtroppo, anche perché leggo tutto il giorno per lavoro e quindi poi quando arriva a casa voglio giocare a Candy Crash, questo dici anche quanto sono vecchio giocando ancora a Candy Crash. Però, dunque, un libro che per me è stato abbastanza fondamentale nel decidere che volevo fare questo mestiere è Un uomo di Oriana Fallaci, che racconta una storia gigantesca di Panagoulis, l'oppositore greco che poi viene trovato, incarcerato, conosce Oriana Fallaci, si innamora di Oriana Fallaci, è una storia personale, politica, gigantesca, scritta benissimo, insomma, è il libro che mi ha fatto dire io voglio raccontare storie così nella vita. Un altro libro che secondo me è molto utile per capire dove siamo è I barbari di Alessandro Baricco, è un libro abbastanza datato ormai, però leggerlo oggi fa un certo effetto perché insomma mi si è a fuoco una serie di, poi non da solo ovviamente, non è che se le scopri di Baricco, quelle cose, però sintetizza bene alcuni modi in cui la società stava cambiando all'epoca e leggerli anche oggi secondo me è abbastanza efficace, abbastanza illuminante. Guarda, a costo di ripetermi, perché lo dico spesso, a me l'ultimo saggio di Baricco mi è piaciuto molto che è la continuazione dei barbari. Di fatto è un sì, un sì, quello è vero e proprio. Come terza cosa in realtà invece di dirti un libro ti dico un altro mezzo su cui comunque diciamo leggo e mi informo tantissimo, l'Atlantic è un mensile statunitense di lunghissima storia che oggi ha un modello di business simile a quello di Jeff Bezos, cioè la proprietaria ed editrice dell'Atlantic è la moglie di Steve Jobs che ha investito parte della sua enorme fortuna nel comprare l'Atlantic ed è una rivista veramente piena di stimoli, interessantissima, sia nel formato cartaceo che in quella online. è una delle poche cose che leggo sempre, poi il resto cambia in continuazione, ma all'Atlantic cerco di non perderlo mai. Ok, e ti chiedo una domanda che faccio a tutti. Un oggetto sotto i 100 euro che a te ha cambiato la vita o ti è super utile ogni giorno? Interessante questa domanda, figo. Dunque, guarda, ti dico sicuramente il registratore microfono che ho usato per fare le interviste in giro per la città, che uso quando sono in America, cioè il lavoro del podcast, fare i podcast per me non è soltanto, non è tanto trovarmi poi in studio per registrare la puntata, ma è tutto quello che faccio, diciamo, come si diceva una volta, consumando le sole delle scarpe, cioè andando in giro, intervistando le persone, parlando con le persone e quello lo faccio con un piccolo registratore microfono che porto con me e che mi permette poi di registrare le voci delle persone con cui parlo, ma anche i rumori, i suoni, cioè è il modo con cui io incamero la realtà attorno a me. Mi permetto di dire quasi leonardesco, perché alla fine Leonardo andava in giro col suo taccuino e si segnava tutto quello che vedeva, gli uccelli, le cose, i rumori, le persone, molto reportagistico. Sì, e ti dico, ovviamente tu puoi spendere qualsiasi cifra per un registratore, un buon registratore, però il mercato, la tecnologia per fortuna oggi ce ne dà di ottimi a meno di 100 euro, molto maneggevoli, insomma diventa anche, capisco che questa cosa sembra un po' da serial killer, però ti scopri a registrare dei rumori, delle voci magari fuori da un ristorante, un brusio, semplicemente perché ti affascina quel tipo di suono e ti ricorda qualcosa, la città, un quartiere, un'atmosfera. Francesco, progetti futuri tuoi? Dunque, io progetto di continuare a lavorare al post, perché ripeto, il mio giornale è la mia famiglia, ma nel 2020 riparte da costa a costa con la terza stagione, che sarà di nuovo una newsletter, è un podcast che seguiranno le lezioni americane dall'inizio del 2020 fino alla fine, con lo stesso modello di business, cioè i lettori e gli ascoltatori se vogliono donare qualcosa donano e più donano più io posso lavorare per loro, è possibile anche che faccia un altro podcast nella seconda parte del 2019. Wow. Ho un'idea in testa, però non so se riesco a farlo, spero di riuscirci. Spero tanto, perché mi piacciono veramente tanto i tuoi podcast e ti ringrazio per essere stato qua in studio. Grazie a te, grazie mille. Grazie mille, Francesco. Ciao. Ciao. Grazie mille per aver ascoltato l'episodio fino a qui. Per trovare tutte le ispirazioni, i temi e le risorse che abbiamo discusso in questo episodio, iscriviti alla newsletter di studio al sito andreaventurelli.com slash newsletter. Se ti è piaciuta questa puntata, condividila con i tuoi amici, fai uno screenshot e dimmi che cosa hai imparato. Noi ci vediamo al prossimo episodio di studio. Ciao.